Amici, sabato 9 settembre io e il Godzilla Luca Franchini saremo ospiti di Pescara Comics. Ci sarà una nostra intervista doppia, un meet and greet e poi in serata commenteremo uno show italiano di wrestling. I biglietti per la fiera sono già in vendita. Se vi va, ci vediamo lì!